Buonasera Baldorini, poche parole sulla partita di stasera, insomma già il fatto che Busto in sei incontri non ha vinto un set è una diostrazione alla vostra forza. Sì, penso che abbiamo giocato bene, parliamo di questa serie di finale, è sicuramente stata positiva per noi, la sera abbiamo fatto una buona partita anche in difficoltà, abbiamo saputo rimontare, abbiamo saputo stare lì nei momenti difficili, non è facile secondo me vincere tre partite dei fila con Busto 3-0, per cui vuol dire che abbiamo raggiunto questa semifinale in una buona condizione, adesso sicuramente c'è il saltino in più perché una finale è una finale e sarà sicuramente molto più difficile. Esatto, poi Conegliano ci sembra in netta ripresa dopo le ultime partite, ha trovato un organico che sta funzionando alla grande, insomma un osso duro per voi ma avete tutte le carte in regola, del resto il passato lo dice, insomma avete già vinto con Conegliano per superare anche questo stato. Beh sì, Conegliano non nasconde nessuno che è una delle più forti squadre in Europa, per cui siamo stati bravi nelle due finali che abbiamo giocato fino adesso, però non dobbiamo attaccarci troppo a questo, nel senso che abbiamo vinto sì, ma perché probabilmente abbiamo fatto qualcosina in più, ora loro stanno lavorando sicuramente, stanno facendo sicuramente meglio, stanno ottenendo grandi risultati, per cui niente, adesso ci prepariamo, abbiamo una settimana, ci mettiamo lì tranquilli e vediamo di fare bene, in questa serie. Grazie mille. Grazie.